Lo so nero, 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 yeah! Caro AC Milan, ti scrivo perché vorrei parlarti. In questi ormai 8 anni non lo stiamo passando bene agli o te, anzi, tutto il contrario. Io come tifoso e te come club. Con questa lettera penso di parlare a nome di tutti i tifosi giovani milanisti come me. Quei tifosi a cui vengono raccontate imprese, vittorie, Champions League, campioni, palloni d'oro. E a volte mi faccio una domanda e mi vengono i brividi. Riusciremo a rivivere queste emozioni. Riusciremo a vedere il nostro lino a rialzarsi e dominare l'Europa come ha sempre fatto. Rivedendo le immagini storiche e indelebili te a Cina, a volte mi scappa anche una lacrimoncia per le emozioni. Perché non sai quanto tengo a te. In questi anni difficili ti ho messo sempre davanti a tutto. Soffrendo, stringendo i denti e venendo anche preso in giro. È proprio in questi anni che ho imparato a non mollare mai, ad amare la mia squadra nonostante tutto. Ad avere la vera fede milanista. Perché questo fa il vero tifoso. Sostiene la sua squadra contro tutto e tutti. E soprattutto non molla mai. Non molla mai. Noi tifosi però siamo stanchi di essere presi in giro, di subire batoste e soprattutto di soffrire. Quella maledetta parola. Soffrire. In questi otto anni abbiamo visto decine di allenatori, giocatori indeguardabili. E non denne di essere chiamate Milan. Milan appunto. Torniamo al nostro Milan. Quello ormai lontano, vero Milan. Quello che dominava. Quello che distruggeva gli avversari. Che avevano anche paura ad entrare a San Siro. I nostri colori sono il rosso come il fuoco. Il fuoco che dobbiamo avere dentro per questa maglia. E il nero come la paura che incuteremo agli avversari. Così è reggito il nostro inno. Appunto. Ma torniamo al presente. Noi ci siamo stancati di essere presi per il colonniano. Anche in una semplice decisione. Basta solo professionalità e passione per il nostro Milan. Per ritornare ad alti livelli. E sono sicuro che ci rialzeremo. Perché lo dice la nostra storia. Noi abbiamo vinto per 50 anni uno scudetto. E ci siamo rialzati. Siamo andati in Serie B e ci siamo rialzati. Vincendo scudetti, palloni d'oro, Champions League. E soprattutto scrivendo la storia. E ci rialzeremo ancora. Ne sono sicuro. Perché noi siamo dei leoni. E torneremo a vedere il Milan dove è sempre stato. Dove merita. A dominare in Italia. E soprattutto in Europa. Voglio concludere questa lettra. Per me è importante. Con una frase che mi rappresenta molto. Di Kobe Bryant. Un vero cuore rosso nero. Ho sempre detto che sanno io per il Milan. Infatti ho il cuore rosso nero. Spero che ricevai questa lettra, mio caro Cimilano. Ti voglio bene. Con affetto. Matteo. Con affetto. Detonna i магазini. perchè? Quá? Quagga. Quagga e. Quagga. Quagga. Quagga.